Benvenuti in un viaggio incredibile, che trascende i confini del nostro mondo e ci porta nelle profondità insondate dello spazio. Viaggeremo nella storia affascinante e avvincente dell'esplorazione spaziale, un racconto di coraggio, innovazione e curiosità umana. Ma com'è iniziato tutto? Quali sono state le prime idee e i primi sogni che hanno spinto l'umanità a guardare oltre la nostra atmosfera? Setacceremo le radici dell'esplorazione spaziale. Un viaggio che inizia molto prima dell'era moderna, nei cuori e nelle menti dei nostri antenati. Gli antichi greci, con la loro inflessibile ricerca della conoscenza, posero le basi per la nostra comprensione del cosmo. Astronomi come Aristotele e Ptolemeo più di duemila anni fa tracciarono mappe delle stelle e ipotizzarono teorie sulla natura dell'universo, benché alcune delle loro idee fossero lontane dalla realtà. Ma fu con la nascita della scienza moderna che l'esplorazione spaziale iniziò a prendere forma. Figure come Keplero nel 1500 e Newton nel 1600 perfezionarono la nostra comprensione del movimento dei corpi celesti e fornirono anche le leggi fondamentali che ancora oggi guidano l'esplorazione spaziale. Da non sottovalutare però anche l'influenza della letteratura. La fantascienza, con autori come Jules Verne, che nel XIX secolo ispirò generazioni di scienziati e esploratori spaziali. Con il libro Dalla Terra alla Luna fu profetico nella sua descrizione di un viaggio sulla Luna, un sogno che divenne realtà oltre un secolo dopo. Entriamo ora nell'alba dell'era spaziale, un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi e da una corsa senza precedenti verso il cosmo, dove Konstantin Tsiolkovsky fu il padre della teoria astronautica con la sua famosa equazione che stabiliva una relazione analitica tra quattro grandezze. La velocità del razzo, la velocità del gas in uscita dall'ugello, la massa del razzo e la massa dell'esplosivo. Questa formula gettò le basi per tutto ciò che è seguito. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la scienza dei razzi fece passi da gigante, spesso per scopi bellici. Werner von Braun, un ingegnere tedesco, sviluppò il famigerato missile V2 per la Germania nazista, il primo oggetto creato dall'uomo a raggiungere lo spazio. Sebbene queste tecnologie fossero sviluppate in un contesto di guerra, posero le basi per i futuri viaggi spaziali. Ma è con la guerra fredda che inizia veramente la nostra avventura nello spazio. La competizione dell'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in campo spaziale pose infatti la base per iniziare la conquista del cosmo. Questa competizione ha portato ai più grandi traguardi nella storia dell'esplorazione spaziale. La sfida lanciata dalle due nazioni fu spettacolare. L'Unione Sovietica colpì per prima, lanciandolo Sputnik, il primo satellite artificiale, nel 1957. Questo evento segnò l'inizio di una nuova era e spianò la strada a un'ambizione ancora più grande, mandare l'uomo nello spazio. La corsa allo spazio raggiunse l'apice negli anni Sessanta. Yuri Gagarin, un cosmonauta sovietico, divenne il primo uomo a viaggiare nello spazio nel 1961. Un'impresa che catturò l'immaginazione del mondo intero. La sua famosa frase, la Terra è blu, è ancora un simbolo potente dell'era spaziale. L'America rispose con il programma Apollo, uno degli sforzi scientifici e ingegneristici più audaci della storia umana. Dopo una serie di missioni preparatorie, l'Apollo 11 raggiunse un traguardo che una volta sembrava appartenere solo al regno della fantascienza. Il 20 luglio 1969, l'astronauta Neil Armstrong mise piede sulla Luna, dichiarando «Questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un gigantesco balzo per l'umanità». Queste missioni non furono solo dimostrazioni di potere tecnologico, furono momenti di unità globale e di stupore collettivo. Tuttavia, la corsa allo spazio non fu esente da tragedie. Incidenti come l'esplosione dell'Apollo 1, che costò la vita a tre astronauti, ci ricordano i rischi immensi di questi viaggi audaci. Dopo le storiche missioni Apollo, entriamo nell'era dello Space Shuttle, un periodo segnato da innovazioni, sfide e cambiamenti nel modo in cui esploriamo lo spazio. Il programma Space Shuttle degli Stati Uniti, iniziato negli anni 70 e lanciato per la prima volta nel 1981, rivoluzionò il concetto di viaggi spaziali. Gli Space Shuttle erano veicoli riutilizzabili, un'idea rivoluzionaria che apriva la strada a un'esplorazione più accessibile e frequente dello spazio. Questi shuttle non solo trasportavano astronauti e cargo nello spazio, ma svolgevano missioni cruciali, come il dispiegamento di satelliti, la riparazione del telescopio spaziale Hubble e la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale. La loro versatilità e capacità di eseguire una vasta gamma di compiti hanno rappresentato un enorme passo in avanti nella storia spaziale. Tuttavia, l'era dello Space Shuttle non è stata priva di tragedie. Due incidenti, il Challenger nel 1986 e il Columbia degli anni 2000, hanno rivelato i rischi e le difficoltà dell'esplorazione spaziale. Questi eventi tragici hanno portato a un ripensamento significativo della sicurezza e della gestione dei rischi nelle missioni spaziali. Nonostante queste sfide, il programma Space Shuttle ha lasciato un'eredità duratura, contribuendo a plasmare la nostra comprensione dello spazio e a ispirare generazioni di scienziati e esploratori. Con la fine del programma, nel 2011, si chiudeva un capitolo importante dell'esplorazione spaziale, ma le porte si aprirono a nuove e audaci iniziative. La costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, o ISS, iniziata nel 1998, rappresenta un notevole esempio di cooperazione internazionale nello spazio. La ISS è il risultato di un partenariato globale, che include agenzie spaziali da Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada. All'interno della ISS, astronauti di diverse nazioni conducono esperimenti in ambiti che vanno dalla fisica alla biologia, aiutando a rispondere a domande fondamentali sulla vita e sull'universo. L'ISS ha anche aperto la strada alla partecipazione del settore privato nello spazio. Aziende come SpaceX e Orbital Sciences hanno iniziato a svolgere missioni di rifornimento alla stazione, segnando l'inizio di una nuova era nella collaborazione di agenzie governative e il settore privato. Questo incredibile progetto non solo dimostra ciò che può essere realizzato quando le nazioni lavorano insieme per un obiettivo comune, ma serve anche come trampolino di lancio per future missioni spaziali, comprese quelle che potrebbero portarci oltre l'orbita terrestre verso Marte e altri mondi lontani. Oltre i confini della nostra orbita terrestre, la storia dell'esplorazione spaziale porta a un altro capitolo emozionante, l'esplorazione interplanetaria. In questa era, l'umanità ha spedito sonde e rover a svelare i segreti dei pianeti e dei corpi celesti del nostro Sistema Solare. Le missioni Voyager, lanciate nel 1977, hanno tracciato un percorso senza precedenti attraverso il Sistema Solare, inviando indietro immagini mozzafiato e dati preziosi sui pianeti del Sistema Solare. Queste sonde, ora nel profondo spazio interstellare, simboleggiano il nostro eterno desiderio di esplorare e scoprire. Marte, il pianeta rosso, ha catturato particolarmente l'immaginazione del pubblico e degli scienziati. Con missioni come Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity e più recentemente Perseverance, abbiamo iniziato a comprendere la geologia di Marte, la sua storia climatica e la possibilità di vita passata. Ma l'esplorazione interplanetaria non si ferma a Marte. Missioni come Cassini Huygens hanno svelato i misteri di Saturno e della sua luna Titan, mentre New Horizons ha fornito le prime immagini dettagliate di Plutone e della cintura di Kuiper. L'esplorazione spaziale è una testimonianza dell'infinita aspirazione umana a esplorare, scoprire e superare nuovi confini. Mentre guardiamo avanti verso un futuro emozionante e audace, ricordiamo che ogni piccolo passo nello spazio è un gigantesco balzo per l'umanità. Grazie per averci accompagnato in questo straordinario viaggio attraverso la storia dell'esplorazione spaziale. Siamo solo all'inizio di questa incredibile avventura nello spazio infinito, quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale. A presto!